Stiamo navigando nella notte dalle 24 ore e ormai ho risaputo che nel mondo del Karting Heather italiano quelli della notte, infatti spicchisi con le sue trovate, e anche Dodo Regazzoni, che ormai lo ricordiamo non è un omonimo, è proprio il fratello del Clay, Dodo è un amico del Karting Endurance, è stato da qua a Jesolo alla edizione di marzo a 24 ore, ci ritroviamo felicemente con l'organizzazione di Raffaele Deschamps, Dodo su sempre con il team Coyote, team bellissimo, ragazzi simpatici, ci divertiamo, metteglielo giù la foto, perfetto, E qui a tu di notte è andato? Bene, bene, mi sono divertito, la pista del Siro Rosa mi fa piacere, e i carbon sono quelli che sono, però ci divertiamo, Gostini ha dato bene, ho ricomparato una posizione e mezza, e vediamo adesso poi gli altri due ragazzi che camminano forti, che hanno un timore, si però mi sa che di notte è un timore, ti ho detto, con quanti turni farei stanotte? No, ne faccio due a testa, non sono più così goloso, non siamo più quali della notte strana, no, no, lascio spazio con i giorni, è giusto, perché ormai è il tempo, bene, 35 equipaggi e speriamo un po' più seriamente, 35 equipaggi sono tanti, 1 a 24 ore molto internazionale, molto serenata nei tempi, come dicevo che l'altra edizione, il livello qui si è alzato molto, vediamo che i piloti dall'estero portano anche lì altri velocità così, e su 35 siamo lì tutti nel secondo, è una bella competizione, si divertiamo, poi devo dire che i scorretti in pista sono quelli, 2 o meno, cioè il livello è molto alto, quindi stanno anche calando un po' di, sono amatoriali per modo di dire, no, no, qui c'è dentro almeno diversi team che sono su tutti i giorni, io ho quattro mesi che non ho messo, bene, e tra le altre cose guardano la classifica, anche il team ucraino, che si farebbe pensare che sono un po' giudicate, invece stanno andando abbastanza bene, no, no, e poi ci sono qui i team lì dei ammirati arabi, che erano stati in Dubai, erano stati dove dicevano, no, sta migliorando, perché i tempi lì non andavano, adesso non ci sono, ci vede che è una categoria attreattiva, 24 ore è un tempo di divertimento, c'è un bel ambiente, per i giovani è una buona scuola, no, ci sono scuola qui, ci sono scuola, ecco, perfetto, bene, allora buonanotte Dodo, vedremo domattina come gioca per i coioti, senz'altro, ciao!